Sono entrati verso le 8 e mezza della sera, avevamo appena finito di cenare, sono entrati in tre dalla finestra che avevamo aperto per rieggiare tutti armati. Armati e pronti a tutto. Luca Apretto, imprenditore arzignanese del settore conciario, rivive quei terribili momenti quando nella villa nascosta dalla vegetazione lunedì sera dopo cena sono piombati in casa tre individui armati. Hanno buttato a terra il nostro inserviente e poi gli altri sono andati in giro per la casa a prendere gli altri membri della famiglia, mia figlia, mia moglie, ci hanno radunati tutti in una stanza. Gridano, urlano, sono aggressivi, vogliono i soldi, la cassaforte è tutto convulso ma l'imprenditore mantiene il sangue freddo e riesce a instaurare un dialogo pronto a dargli tutto. Soldi, orologi, gioielli di 30 anni di vita. Un valore di svariate centinaia di migliaia di euro se non di più. Il bottino è ancora in via di definizione. Insistevano, vogliamo soldi e gioielli, detto a caso, quando li ho portati perché non è facile trovarli e ho consegnato tutto quello che avevamo, se li sono messi via e se ne sono andati. Appena la sicurezza che i malviventi se ne sono andati a dare l'allarme è chiamare i carabinieri e sempre l'imprenditore. Al vaglio dei militari della compagnia di Valdagno anche le telecamere di videosorveglianza della zona ed ora è caccia ai banditi. Minuti di terrore che nessuno mai vorrebbe vivere, un'esperienza che lascia un segno indelebile, ma Luca Pretto si considera nonostante tutto fortunato. Sentendo altre rapine che sono successe in giro possiamo dire di essere stati fortunati. Non erano intenzionati a farci del male, solo a spaventarci per avere il bottino. Grazie a tutti.